Nuova villa presa d'assalto dalla banda di malviventi, forse la stessa che domenica sera ha sequestrato in casa la famiglia del petroliere Giancarlo Miotto, riuscendo a portare via quasi un milione di euro. L'ultimo colpo è di stanotte la zona sempre la stessa. Questa volta la banda ha forzato la finestra di una villetta disabitata di proprietà della famiglia von Fustenberg. Egon Sebastian, fondatore della banca IFIS e membro della nobile famiglia veneziana di origine tedesca imparentata con gli agnelli. Questo potrebbe essere il terzo assalto, anche se per ora non esistono elementi, a parte la localizzazione dei colpi, tutti tra Mogliano e Zerman, che sembrano accomunare i diversi ride. Martedì sera Zerman, il custode della villa dell'imprenditore Nicola Jol, ha sventato quello che avrebbe potuto essere il secondo assalto. Forse anche per questo la scelta del nuovo obiettivo, una villa disabitata. I malviventi hanno potuto infatti agire indisturbati, mettendo a suo quadro le stanze, forzando alcuni armadi. Hanno portato via soltanto un portafoglio. Il sindaco di Mogliano, Davide Bortolato, ha incontrato oggi alle 14 il comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso, Ermanno Luigi Magistris, insieme al comandante della compagnia di Mogliano, luogotenente Rossi. Al sindaco è stata ribadita la massima collaborazione interistituzionale, mentre è stata esaminata la mappatura delle telecamere di videosorveglianza del comune per valutare un eventuale potenziamento. Si stanno dando un grosso supporto sul territorio, continua il controllo, è arrivato anche l'aiuto del nucleo operativo dei carabinieri, quindi del battaglione, che hanno potenziato il numero delle pattuglie presenti sulle nostre strade qui a Mogliano. Mogliano è una città delle ville, ville abitate anche da persone facoltose e città vicino a snodi autostradali, quindi sono queste le zone che verranno controllate maggiormente rispetto ad altre. Ad accorgersi dell'intrusione nella villa Von Füstenberg stamattina un passante che ha notato una finestra rotta e ha dato l'allarme ai carabinieri. L'appello del sindaco ai suoi cittadini, iscrivetevi ai gruppi di controllo del vicinato. Allertare assolutamente se si vedono movimenti strani, le forze dell'ordine, magari anche scrivendosi il numero della targa dell'auto che si vede, iscriversi al controllo di vicinato che abbiamo fatto partire, che sta funzionando bene.